Eccoci qua per una velocissima pillola scolastica. In questi giorni ho avuto la fortuna e la possibilità di intervistare due docenti delle scuole di Saronno, della nostra città di Saronno e sono emersi quelle che sono le problematiche di questo periodo particolare. Si è dovuto fare ricorso all'insegnamento da remoto e in particolare ci sono state un paio di questioni che sono emerse, una su tutte la valutazione che è sostanzialmente impossibile o quasi. Non a caso nel decreto legislativo del Ministero dell'Istruzione si è inteso procedere con la promozione di tutti quanti salvo poi ovviamente dare delle valutazioni ad hoc per ognuno ma insomma in definitiva abbiamo questa decisione che è corretta perché abbiamo visto che c'è questa difficoltà. Non è facile avere cognizione della preparazione degli studenti. Poi ci sono anche problemi di connessione, ci sono problemi di disponibilità dei device, ovvero mancano i PC in poche parole, si è corso un po' ai ripari, ci sono istituti più preparati, altri meno preparati. Io in questa piccola pilolina volevo però ricordare una cosa del passato, del 2006, 13 anni fa. Intanto vediamo sul nostro amico browser un paio di titoli per capire di cosa stiamo parlando e poi il sito dell'istat per un paio di numeri. Allora siamo sul browser, questo è il gazzettino, qui siamo a Treviso, titolo eloquente, scuola online tra gli ostacoli metà degli studenti senza computer. Siamo al 21 marzo, sono passate alcune settimane ma diciamo la situazione di partenza era questa. Qui invece andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Covid e scuola, l'unica cosa certa, tutti promossi. Perché l'abbiamo detto? Se scorriamo l'articolo, vediamo qui in questo blocco centrale, giudicare gli studenti a distanza è cosa veramente difficile, il 30 per cento delle famiglie in Italia non ha un computer, al sud andiamo al 46 per cento. Andiamo poi sul sito dell'istat dove troviamo i numeri del nostro paese, in particolare sempre sui pc. Qui siamo al 2019, quindi probabilmente il dato della Gazzetta del Mezzogiorno è un po' più aggiornato. Al 2019 eravamo al 33,8 per cento di famiglie che non aveva un computer o un tablet in casa. Sotto troviamo anche un altro dato. Circa 39 milioni di persone avevano navigato almeno una volta in rete, il che significa, per inciso, che più o meno 21 milioni sui 60 che siamo, non avevano mai navigato nemmeno una volta in tre mesi. Ora, questi dati vi andiamo a paragonare a quello che accadeva nel 2006, ovvero che cosa? Qualcuno dirà questo temato, però io ho conservato un reperto cartaceo, immagino che tra 50 anni farà ancora più scena questa cosa. Allora, lo faccio vedere. Questa qui intanto è la busta. Adesso la mettiamo qua in primis. Allora, questa qui è la busta che il buon Busno ricevette nel 2006 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie. Ricordiamo che il governo era il governo Berlusconi e in questa busta troverà l'innovazione per le famiglie. Allora, mettiamo Presidente del Consiglio, la prova la vedete qui, si è firmato Silvio Berlusconi che introduce il meraviglioso libretto per l'innovazione tecnologica digitale per le famiglie. Andiamo a vedere chi era il nostro eroe, il Ministro Lucio Stanca, che qua lo vediamo, va che bello. Allora, il Ministro Stanca, se ve lo ricordate, si fecero grandi progetti, grandi cose nella prima pagina, poi chi vuole può anche recuperare l'edizione digitale, si esordiva così. Oltre il 58% delle famiglie italiane oggi hanno in caso un computer. Nel 2000 erano il 27%, come dire, siamo arrivati noi, abbiamo fatto aumentare del 31%. Ora, va bene, non è che dica, dal 2006 si sono alternati dunque un governo Prodi, poi ancora Berlusconi, poi Monti, poi Letta, poi Renzi, poi Gentiloni e adesso il Bisconte, visto che siamo alla seconda versione del governo Conte, e siamo passati dal 58% del 2006 al 66.2% del 2019. Cioè abbiamo guadagnato l'8,2% in 13 anni. Ora so che faccio la media del pollo di Trilussa e non va bene, però 0,63% di aumento annuo. Di questo passo più o meno, so per giù, probabilmente tra 30 anni avremo una copertura di quasi il 100%, cioè nel 2050. Ora, tornando al discorso relativo alle nostre scuole, alla situazione attuale e al post, io vi lascio con la domanda, dove andiamo a finire questa roba qua? Siamo sicuri che nel giro di pochi mesi la scuola italiana sarà in grado di sostenere il peso di una istruzione in remoto? Fate voi la domanda ovviamente da girare al Ministro Razzolina e anche agli altri grandi protagonisti del nostro governo, che so, in questi giorni, proprio oggi, sono impegnati a mendicare qualche soldo da Bruxelles, però insomma, ragazzi, qui, la scuola è scuola, questo è il futuro e il futuro, se lo vogliamo veramente portare avanti in digitale, cari signori, in, come dire, in qualche modo a questi ragazzi gli dobbiamo dare gli strumenti per poter portare avanti questo discorso, altrimenti è meglio che li mandiamo a scuola, si prendono il virus, non gli succede niente e la vita va avanti, come sempre.